Scatta la stretta dei controlli per i forbetti dell'immondizia in città, solo pochi giorni fa, multe per errati conferimenti nella zona in via Lamedeo. Continua così il braccio di ferro tra chi rispetta le regole e chi butta l'immondizia indiscriminatamente fuori dagli orari previsti o li conferisce non seguendo le corrette modalità dell'indifferenziata o ancora peggio, abbandona indiscriminatamente e in modo selvaggio i luoghi dove non si dovrebbe. A sottolinearlo anche sui social è stato l'assessore all'ambiente Marcello Frangiamone che ha dichiarato Abbiamo richiesto agli uffici più controllo in coordinamento con gli uomini del comando della Polizia Municipale e gli operatori della Dasti su tutta la città perché non si perdano le abitudini corrette conquistate in questi ultimi mesi che ci hanno fatto traguardare una percentuale poco sopra al 60% ma noi puntiamo a migliorare ulteriormente questo valore.